ATTENZIONE, MIPOLAZIONE, ESCITO PASZO, L'EDITORI Capo questa bella pubblicazione ha chiamato Pazzariello in Napoli, ANGELO PICONI GENTE, VENITE, VENITE, questa occasione non ha perdito Ha cattato con un libro di Vincenzo Montella Parole di Pazzariello e di Pollucionello GENTE, VENITE! GENTE, VENITE, VENITE GENTE, VENITE GENTE, VENITE GENTE, VENITE, VENITE GENTE, VENITE